Quedo botania si deve andare in traghetto. Ci sono traghetti che andranno direttamente, ma generalmente i turisti prendono un traghetto che attraversa Hegumgang. Avevo paura di mal di mare, ma non potevo perdermi Hegumgang. Ho preso un traghetto che parte dal volo di Giseppo. Imbarchiamo. Per fortuna il mare era calmo, quindi non ho avuto il mal di mare. Guarda quanto bella è la costa. Ci sono anche persone che pescano sugli scogli. Questa è la vetro botania. Andremo fra un po'. Eccoci siamo arrivati a Hegumgang. Che bellissima isola. Le scoglie hanno un nome che rappresenta la propria forma. Ci proviamo a trovare? Riesci a vedere un jimmiru? Com'è? Assomiglia? Innamorata dai. Innamorata dai. Qui c'è la città d'Ongul, ci sono due tunnel collegati a forma di cuoce. Piccola barca può passare il tunnel, purtroppo questo traghetto non può passare. La città d'Ongul, c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è. La città non conosce. Qu'allò chiamato che in questo caso è un po' che c'è un po' che c'è la pronta. La città non ho panizzata. Non ce ne vedeva un po' cheورia diciamo un po' cheورia. Ma con questa come under la città non c'è un po' che è presente. Era un po' che fry. Ma quest'è una ricetta che era un po' che era un po' che ora è un po' cheorio. Riccardo bordele a sottolineare veniva anche ancora inizante la città del tetra, La città è unaova scelta che inizia parla che per accedere. Qu'e una settimana giù la città di sottolineare. Filippa Città città. Guarda, una barca entra velocemente, la prossima volta dovrò provare anche quello. Vedi la barca che è entrata lì poco fa, puoi indovinare il nome. Sì, la prossima. Sottotitoli e il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 E bellissimo www.mesmerism.info 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 non pari già nato no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. È una spinge colibri. Quando ho girato il video ho pensato che fosse un colibri. Ho trovato durante l'editing del video. È una spinge colibri. È un insetto. Finora non ho mai visto un insetto così carino. È una spinge colibri. È un po' di chiesa Eden. I miei amici hanno fatto bellissime foto. I miei amici sono pianta di sulla scalina di paradiso. È un po' di chiesa. È un po' di chiesa. Hanno decorato con piastrelle artigianali. è un po' di chiesa. È un po' di chiesa. È un po' di chiesa. Devo giubligarmi Ci sono molti traghetti che aspettano Puoi vedere la storia dell'isola? Da qui Per la loro esperanza Si può andare a fare ondicare La Scuola Per la loro esperanza Iligenerò Solo Non dimenticare, iscriviti e metti mi piace. Ciao, ciao, ciao.